File PDF. Croce e delizia di chiunque faccia questo mestiere, quindi di chiunque abbia a che fare con le immagini, perché i file PDF spesso e volentieri vengono utilizzati per andare in stampa. Che cosa succede quando un cliente, un amico, un collega ci invia un PDF chiedendoci di fare dei lavori con questo PDF, come potrebbe essere per esempio un'etichetta, ma da questo file manca qualcosa, come potrebbe essere per esempio un font. Oggi vi racconto come si fa a recuperare le informazioni che sono presenti in un file PDF nel momento che il nostro applicativo Illustrator ci apre un file sbagliato, un file non corretto, e quindi c'è un intoppo, perché noi non siamo in grado di lavorare quel file se non siamo in grado di aprirlo. Ora, ovviamente la cosa migliore da fare sarebbe chiedere a chi ce l'ha fornito di darci una versione che siamo in grado di leggere, quindi magari di fornirci un EPS o una I o un PDF o un altro tipo di file in maniera tale che siamo in grado di lavorare il file correttamente. Tuttavia, siccome sappiamo benissimo che questo non sempre è possibile, perché molto spesso la risposta che ci sentiremo dire sarà «Eh, ma non l'ho fatto io», «Eh, ma ho chiuso malissimo col grafico di prima e quindi ora non glielo posso chiedere», «Non lo so», «Non me lo ricordo», «Che cos'è un PDF?» Queste sono le risposte tipo che io mi sento spesso recapitare da amici, clienti e colleghi quando gli chiedo cose di questo tipo, quindi so benissimo che non è facile farsi dare un PDF corretto con tutte le informazioni corrette. Ora, dal momento che mi è capitato questo problema di recente, quindi ho affrontato questa casistica proprio questa settimana, faccio questo video così che la mia esperienza sia d'aiuto a chi si trova nella medesima situazione. Io ci ho messo 10 minuti a risolvere il problema, quindi chi guarderà questo video presumibilmente ci metterà meno di 10 minuti. Non voglio fare un video super lungo per farvi vedere questa cosa. Noi andremo semplicemente ad aprire il file PDF in una maniera che non è quella consona, quella solita, andremo a estrapolare le informazioni e poi già che ci siamo vi faccio anche vedere come si fa ad applicare queste informazioni sulla loro destinazione finale, in questo caso le etichette di una bottiglia di birra. Prima di andare a incominciare vi chiedo un like sulla fiducia e se vi interessano argomenti come questo, su questo canale io tratto prevalentemente fotografia, videomaking e design, quindi ci saranno tutorial come questo, recensioni di strumentazione foto-video e applicazioni sul campo. Ora, se cliccate il bottone iscriviti che sta subito qui sotto, non vi perdete i prossimi aggiornamenti e se attivate anche la campanella diventerà veramente molto, molto difficile perdersi i miei prossimi video. A questo punto possiamo andare a incominciare. Bene, eccoci qui con il famigerato PDF. Nel momento in cui noi apriamo questo PDF con Illustrator ci rendiamo subito conto che c'è qualcosa che non va, problemi di compatibilità o altro, fatto sta che non riusciamo ad aprirlo come vogliamo. A me serve quell'etichetta che sta a pagina 1, ma se io vado ad aprirla, vedete cosa succede? È stato rilevato un costrutto imaging sconosciuto, per cui fondamentalmente Illustrator tirerà a indovinare certe parti dell'immagine, non mi darà tutte le informazioni che mi servono. E qui la cosa si fa pesante perché c'è un font mancante che non viene riconosciuto e questo font viene sostituito con un altro font a caso. E a me serve quel font perché è sulla parte dell'etichetta che mi occorre. Quindi io potrei andare a cercarmi il font, il nome del font mi viene dichiarato dal documento, però io potrei anche non volerlo fare o potrei non poterlo fare perché magari è un font a pagamento e magari il cliente non mi dà i fondi per comprarmi il font. Per cui andiamo ad agire in un'altra maniera, dal momento che le informazioni ci sono tutte all'interno di quel documento. Cominciamo con il creare un nuovo documento e siccome si tratta di un'etichetta potremmo andare a creare un file in quadricromia. Ora, le dimensioni di questo file non ci interessano in realtà. Quello che andiamo a fare è che andiamo a importare il nostro file PDF, quindi andiamo a fare inserisci in questa maniera, ci si aprirà una finestra di dialogo, io vado a recuperare, ecco qui all'interno vado a recuperare il mio file PDF, devo assicurarmi che collega abbia la spunta, quindi all'interno di opzioni se non lo vedo collega deve essere spuntato. Tutte le altre opzioni vanno bene così. A questo punto gli dico inserisci, come potete vedere mi dà la possibilità di inserire il documento, a questo punto io lo ingrandisco in maniera tale che lo vedo bene, Ora, come potete vedere la nostra etichetta è stata recuperata, quindi a questo punto io vado a fare oggetto e vado a fare converti trasparenza, quindi fondamentalmente sto scorporando tutte le parti. Qui devo convertire tutto il testo in cortorni, questa è la parte più importante di tutto questo tutorial. Andiamo a dargli ok. Ok, come potete vedere il nostro documento è stato trasformato in tutti i suoi elementi che sono linkati dal PDF e questa volta il testo che ci serve esiste. Quindi cominciamo a eliminare un po' di cose che non ci servono. Andiamo a eliminare tutta questa parte che non ci serve assolutamente a niente, quindi la elimino senza pietà. Tanto a noi quello che interessa è solamente la parte relativa all'etichetta. Come potete vedere ci sono tutti i livelli che sono pesantemente sovrapposti, ovviamente quindi bisogna andare a recuperarli eliminando quello che non ci serve e tenendo solamente le parti dell'etichetta che invece ci servono. Una cosa che andiamo a fare all'interno di Illustrator, dopodiché possiamo trasferirci all'interno di Photoshop per applicare queste etichette a delle bottiglie o a qualunque sia la loro destinazione finale. Come potete vedere qui c'è un bel po' di macello, perché quando noi importiamo un documento in questo modo si creano un sacco di cartelle sotto cartelle, quindi dobbiamo andare a capirci qualcosa sicuramente. Per esempio questi sono i segni di ritaglio, questo non ci serve, sul retro non ci serve, quindi non ci serve tutto quello che c'è qui dentro. Dobbiamo andare a fare un po' di ordine prima di esportare questi file, perché così siamo in grado di importare l'etichetta finale direttamente nel nostro file di Photoshop, che è l'obiettivo finale di questo tutorial. Vi risparmio la parte noiosa con i livelli di Photoshop. Diciamo che qui abbiamo finalizzato quelle che sono le nostre due etichette, quindi a questo punto trasformiamo, convertiamo tutto quanto in tracciati, perché non vogliamo portarci dietro cose che non vanno bene, quindi trasformiamo tutto quanto in tracciati, così siamo tranquilli. Andiamo all'interno di Photoshop e qui come potete vedere c'è una foto di una bottiglia che ho già fatto. Vado a importare, semplicemente copia e incolla, vado a importare come smart object, come oggetto avanzato, la mia etichetta e come potete vedere qui posso ridimensionarla e andare a posizionarla nel posto giusto, più o meno nel posto giusto. Qui non è essenziale essere precisi al millimetro, anche perché queste sono delle etichette che vengono applicate su delle bottiglie e io vi assicuro, avendone fotografate di bottiglie in vita mia, che non sono precise le applicazioni delle etichette. Ogni tanto ce n'è qualcuna storta, ogni tanto ce n'è qualcuna più a destra, ogni tanto ce n'è qualcuna più a sinistra, quindi cerchiamo di essere precisi, però senza farci venire la malattia, perché comunque le etichette vengono appoggiate sul vetro della bottiglia, ma non sono sempre uguali. Quindi noi le appoggiamo meglio che possiamo, però appunto senza diventare matti. La appoggiamo qui sopra e adesso andiamo a dargli un minimo di imbarcatura, perché vogliamo che vada a coincidere, non tanto con quella di prima, che era un'altra etichetta applicata, vogliamo cercare di andare a riprendere un pochettino quella che è la curvatura del vetro della bottiglia. Non troppo, solo un pochino, perché tanto non ci sarà nemmeno tanta percezione di questa cosa. Ok, come potete vedere, se io zoomo indietro fondamentalmente non ci si accorge, però attenzione, perché abbiamo ottenuto per ultimo il biscottino più dolce. Adesso dobbiamo andare a inserire questa parte dell'etichetta, che è un pochino più complicata. Allora noi facciamo sempre la stessa cosa, la copiamo da Illustrator, qui abbiamo il fronte della nostra bottiglia, la incolliamo nel nostro file, oggetto avanzato come sempre, come potete vedere ce l'ha sbattuta dentro così, perché qui abbiamo già una serie di livelli. Quello che ci interessa è andare a posizionarla più o meno sopra all'etichetta che c'era già. Ora io devo constatare che tra un'edizione e l'altra di questo birrificio, la forma delle etichette non è rimasta esattamente la stessa, l'hanno un po' modificata, così come hanno modificato i colori, e credo anche che ci sia una battitura a punto metallico qui che prima non c'era, se ho capito bene. Ora io ho posizionato un livello di regolazione come vedete per modificare il colore della bottiglia, perché è una tipologia di birra diversa, quindi gli ho dato un, come potete vedere qui posso andare a dare il colore che voglio praticamente alla bottiglia, gli ho dato un meno 22 di tinta, in questo modo riesco a trasformare la bottiglia in questo modo che è quello che desidero. A questo punto io credo di dover andare a, ok, diminuiamo l'opacità così vediamo di quanto è fuori questa etichetta. Adesso io la scalo un pochino e la scalo mentre è ancora un oggetto avanzato, perché così perde meno qualità, però io credo che dovrò trasformarla, dovrò andare a rasterizzarla per fare i prossimi step. Infatti adesso andiamo a rasterizzare il livello, facciamo nuovamente trasforma, perché rasterizzandola posso fare distorci e posso fare warp, mentre con l'oggetto avanzato non potevo fare warp, non potevo distorcere l'etichetta, ma solo ridimensionarla e scalarla. A questo punto, esattamente come prima, io vado a cercare di seguire quella che è l'imbarcatura del vetro della bottiglia, quindi vado a dargli un pochino di tondo, cercando di seguire quella che era l'etichetta di prima, anche se appunto, come potete vedere, credo che le dimensioni di stampa e i contorni siano livissimamente diversi rispetto alla prima edizione. Ciò non di meno, siccome questo comunque è sostanzialmente un mock-up, cioè non è una fotografia vera, stiamo andando a modificare un'etichetta che però è digitale 100%, perché era un file PDF, vado a sostituirla in questo modo, finché non sono soddisfatto, ovviamente cerco di essere il più preciso possibile, ma anche qui senza diventare matti, a questo punto vado a ridare 100% di opacità alla nostra bottiglia. E qui, come potete vedere, andiamo a inserire un livello gradiente che ho modificato in maniera tale da dargli questo tipo di riflesso, andiamo ad applicarlo solamente sulla nostra etichetta con una clipping mask, vedete il prima e il dopo, questo serve a dare l'idea che la nostra etichetta segue il contorno della bottiglia, in maniera tale da dargli un pochino di tridimensionalità. Adesso, l'ultima cosa, vedete il prima e il dopo, l'ultima cosa che possiamo fare, possiamo andare a fare doppio clic nello spazio fuori dal nostro livello, andiamo a dare un pochettino di texture a questo livello, quindi andiamo a inserire pattern overlay, e io qui sto utilizzando uno dei predefiniti di Photoshop, intanto lo tengo così basso che non si capisce, questo qui è un predefinito che si chiama alberi, è una pattern che sono dei pini praticamente, quindi non è quello adatto. Come potete vedere, con il livello di fusione normale sarebbe così, e i pini si intravedono proprio, ma se io gli vado a dare overlay, diventa fondamentalmente una sorta di grana che mi va un pochino a dare l'idea di una carta stampata, per renderla un po' meno digitale, un po' meno PDF, ecco. A questo punto possiamo vedere il prima e il dopo, con la nostra etichetta andiamo a vedere il prima e il dopo, anche con i colori applicati, e questa è la bottiglia finita. Bene, come avete potuto vedere, si tratta di una tecnica, è un workaround sostanzialmente, stiamo bypassando il fatto che alcune informazioni sono andate perdute. Non so quante volte mi sarà capitato di aprire dei file di Illustrator con le informazioni che mancavano in quella maniera, un disastro, perché è sufficiente che la versione di Illustrator mia o della persona che mi manda il file non sia la stessa, e ci troviamo con un problema di questo tipo. Quindi è una cosa che succede spesso, perché Illustrator è un programma meraviglioso, ma ha un difetto grandissimo, non ha compatibilità tra le varie versioni, è proprio compatibilità zero. Qualsiasi versione io abbia usato, posso aprire il mio file solo e soltanto con quella versione, se no, perdo pezzi, perdo sfumature, perdo hinting, perdo font, perdo immagini, perdo tutto. Quindi è un vero problema. Esistono ovviamente dei modi per formattare un file a pacchetto, in maniera tale che rimanga tutto esattamente come noi lo vogliamo, però questa è una cosa da professionisti, è una cosa che vi dico la verità, non la faccio tanto spesso nemmeno io. Io codifico di solito un pdf esecutivo per la stampa e quindi non c'è bisogno di fare cose di questo tipo, perché quel pdf che faccio io deve andare solamente in stampa, non deve più essere lavorato. Se mi chiedono un esecutivo e poi ci vogliono mettere le mani, cavoli loro, si stanno andando a cercare una grana, se volevano un pacchetto mi dovevano chiedere un pacchetto, perché io sono un professionista e il pacchetto lo faccio quando serve, non quando non serve. Purtroppo là fuori è pieno di gente che nonostante magari faccia anche questo di mestiere non è né professionale né professionista e quindi i pdf che ci arrivano spesso non vanno bene. Non vanno bene magari perché erano degli esecutivi, il nostro cliente magari ha solo l'esecutivo perché non ha mai chiesto il pacchetto e quindi ci rifila l'esecutivo che gli ha fatto un altro grafico, un'altra agenzia e noi su quello dobbiamo lavorare. E proprio su questa casistica vado a sviluppare questo video che spero a questo punto vi sia servito a qualcosa, per cui vi chiedo nuovamente se vi è servito a qualcosa di lasciare un like a questo video, ci vediamo nei commenti se avete domande o altro e io vi do appuntamento al prossimo video. e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie. Grazie.